Ciao, ti do una buona notizia. Vuoi avere ID alto in Miro della Dunanza? Adesso è possibile. Puoi avere ID pubblico alto sia in KADU che nell'altra porta. Questo è possibile perché proprio stamattina Fastover mi ha concesso l'IP pubblico granitamente. Non servono configurazioni. Quindi appena voi avete questo ID pubblico alto, in automatico avrete ID alto sia in KADU che nell'altra porta. Non servono configurazioni particolari, dovrebbe andare in tutto in automatico. Vi aggiornerò, per quanto riguarda domani stesso contatterò Fastweb per farmi dare maggiori informazioni su come ottenere QSP pubblico gratuitamente. Prima era un privilegio di poche persone, più che altro le aziende potevano averlo. Però io adesso so che molti utenti privati possono avere questo IP pubblico gratuitamente. H24 Rimani in contatto sul mio canale, iscriviti se non l'hai fatto, in modo di essere aggiornato su questa fantastica possibilità. Ciao e al prossimo vero tutorial. Ciao